Le storie dei ludopatici sono tutte diverse, tutte uguali allo stesso tempo. Racconti di soldi buttati nelle macchinette, mangiasoldi, le slot da bar, i videopoker di persone che si sono giocati la casa, la famiglia, la salute, per poi tornare ancora e ancora davanti agli schermi scintillanti. La regione Lombardia ha deciso di usare la mano ferma, una scommessa, il caso di dire fatta di limitazioni da una parte e di aiuti per chi è ormai vittima del gioco, dall'altra Si comincia dai limiti alla diffusione delle slot grazie alla ripresa delle regole che ne impediscono la presenza in prossimità di luoghi sensibili quali scuole o chiese. Intanto si pensa a targhe premio per i baristi virtuosi che rinunceranno ai giochini, magari come al comune di Costa Magna in provincia di Lecco che ha esentato l'IMU all'esercizio slot free. E' ancora un corso di formazione obbligatorio per esercenti e operatori di polizia locale per conoscere i tanti rischi del gioco d'azzardo, oltre a un numero verde per assistere giovani e anziani. Regole che i sindaci, se lo vorranno, potranno rendere ancora più severe. Tutti riuniti, i primi cittadini, anche dallo spot della trasmissione le iene per dire no al gioco. Un fenomeno, quello dell'azzardo, diventato in pochi anni rilevante anche come problema di salute. Solo a Milano, oltre a quelli messi a disposizione dall'Asla, ci sono tre centri di ascolto per i malati di gioco. Le città si sono riempite di slot point di sale, dove l'unico a vincere è il pentimento dei giocatori che si rovinano la vita. Ora, dicono gli amministratori, è il momento di reagire.